Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo su Roblox In una mappa parkour Ed ora ragazzi Sì Il parkour io sinceramente Non lo so fare così tanto bene Però se ci riesco Sarebbe una cosa bellissima No Allora ragazzi Sì Soprattutto Trovi consiglio di installarvi Roblox Perché ci sono tantissime modalità E anche molto bello E soprattutto ragazzi Se seguitemi su Instagram E E dopo di Di un po' Inizierò Inizierò A postare tantissime foto A sto tizio A sto tizio non mi faceva passare Ma Sare andato Della mappa Va bene Meglio Meglio così Sì Sì ragazzi Io direi di arrivare fino a livello 8 E qui dopo Concludiamo qui Naturalmente ci sarà una seconda parte E E quindi Dì ragazzi Sì 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 Sono caduto Sono caduto Volevo dire Non so Come ho detto Però l'ho detto In un modo stranissimo Perché non riesco ad arrivare fino ad acqua Ragazzi Dobbiamo salire Quest'albero Per poi dopo Tuffarci Nel livello 9 Sì va bene Nel livello 9 Sentiamo Nel livello 8 E sopra Io il parkour Non lo so fare E ve lo sto facendo vedere Perché questo È lo speciale Di scritti Sì vabbè Comunque sono arrivato A livello 8 Senza morire Neanche una volta Ma come è morto Selezio Vabbè Credo che abbia fatto Il reset Charakter Va bene Faccio un colore a caso Ehm Verde Non ci credo Di nuovo Ehm Blu Oh vabbè Seriamente Non sono riuscito Vabbè Arriviamo fino a livello 11 E poi dopo Concludiamo qua Non qua Però a livello 11 Comunque ragazzi Se vi state chiedendo Perché non finiscono Tutta la mappa Sono più di 100 livelli Esatto Quindi Qua è abbastanza facile Ok ragazzi Sì vabbè Concludo a livello 13 Così a me ne faccio vedere Un pochettino di più Però a livello Sì vabbè Sì vabbè Allora A livello 13 Però Chiudiamo Il video Comunque ragazzi Allora In questo video Non c'era Francesco Allora Ragazzi Il video Finisce qui Spero che vi sia piaciuto Lasciate tanti bei like E ci vediamo Nel prossimo Video Ciao Ciao